Cattolino Bebe, stai in piano che ti fa male! Grazie di italiano con lo calma! Un giratossi, 5 kg per lì Pronto, pronto! Durato! Grazie da Canarozzi Ottavolo, 5 kg per lì Un giratossi, 5 kg per lì Pronto, non rica di fare rapporto per l'atleta di casa sportata da 4 alfieri per 5, 6 alfieri quindi per questa scelta che dice di nome Enzo Nishu ha concluso la sua settima posizione Posso? Grazie Buongiorno Mbuk Per la dimensione Come hai in un logo? Questi sono frate Come hai in un popolo? Come hai in un pantal트로? Qui sono un popolo? Che del 268? Come hai in un popolo? E' in un popolo Oh, Pogli... Katarina E si trova o per risa, sai che faccia voi un casino Way, no, I'm on this to me Anche in sei posto domani, poi ragazzi Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.